Avvocato, com'è andato questo incidio regolatorio? Per voi dovrebbe essere importante? Per noi è stato molto importante questo incidente regolatorio condotto dal dottor Contigelli. È vero che da un po' rifrattato ci ha detto di non aver avuto nessun rapporto con Guerrino? Si, ha rifrattato e su ogni domanda non si ricorda, non si ricorda. Non si ricorda, non si ricorda. E sulle telefonate con il figlio di Guerrino invece che cosa? C'era Lorenzo il figlio che cantava, quindi pilotato abbastanza bene direi. Pilotato? Si, si. In che senso Avvocato? Pilotato bene, mi fermo qui. Ha cambiato strategia difensiva ancora? Io? No, la WIT. Penso di sì. Ha confermato, hai ricevuto dei messaggi dalla signora Piscaglia, ha scritto voglio fare l'amore con te. Non si ricorda, non si ricordava. Comunque lei cosa gli ha chiesto? Si ricordava soltanto che la signora Piscaglia Guerrino gli ha detto ti voglio bene e basta, sei un bravo ragazzo. Altre cose non si ricorda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.